Ci sta un'indicazione? Di qua, sali qua. Bravo. Ecco qua, questa è un'atleta forte e giovane. Bravissimo, da Vettano. Bravo. Sì. Questo mi sa, ha fatto secondo, terzo, quarto, cosa? Eh, chi è? Le cose, sì. Diretto, 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 diretto. Scusa un attimo. Bravo, rallenti un po'. Allora, questo qua è un'atleta, secondo me, che in discesa è molto presente e quindi perde parecchie. Questo potrebbe vincere. Ecco un altro atleta, ecco qua. Bravo, stai come fra i primi. Ecco qua l'imbocco. E poi tutto dice, tutto dice, chi aspetta la, eh, rallenta lì, chi aspetta, chi aspetta la gloria. Vai, vai.